Tre anni, come ho detto poc'anzi, felice di essere qua. Mi è cambiata la vita in meglio perché mi godo le giornate come non avevo mai avuto l'occasione prima. Allora, sì, sarà una serata dedicata alla danza con dei personaggi super noti al mondo della danza, soprattutto ballerini di fama internazionale, dei teatri italiani e internazionali, iniziando da Virna Toppi, prima ballerina della Scala con il suo fidanzato Nicola, ambiettato Romani, collega eco nazionale con Alessandro Macario e tanti altri. Ci sono anche due riminesi, Marco D'Aglia e Alice Mariani, entrambi lavorano in Germania, due compagnie super prestigiose e tanti altri. Siamo in 13, in realtà io sono l'organizzatore di questo evento, non sarò un performer, io presenterò la serata, faranno loro insomma tutto il resto. Sono pezzi di repertorio neoclassico, classico, molto conosciuti al pubblico, una serata appunto di un gala come si deve fare. Grazie a tutti.